Profesionali fotografi Adis, hai capito? Ah, era nada! Wow, che duro! Si è un po' periccordo, no? Che duro, lei può averci male? Che? Che, un altro? Un altro? Che inizio dovevi? Ma dai ragazzo, sei stupido! Io ho pregunto tutto per favore Non si può Non è professionale lui, non è professionale Eh, ragazze, ragazze E poi? Taglio uno! Guarda, guarda C'è italiano? E' meglio la Francia o l'Italia? E' la Spagna è la migliore Eeeh, vai vai Ah, ciao Ah, ciao Non c'è da dire bene Eh, buoni italiani, buoni Non c'è da l'alambra, eh? Ah, lì dopo Tu MXD Oh, ho 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 ho! Ho 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 ! Ho 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 ho! Ho 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 ! Ho mi disino! Hello, ciao! yht' salto con chi? nooo l'ego l'ego tipo ti dela jepek veš jepek ti dela jepek veš evo cab cab king oh oh oh